La mia bella era per tutti noi una magnifica e monifica padrona di casa. D'inverno, a sublimora, aveva sempre un focolare acceso e scopentante che ci accoglieva in un salone ampio e austero dove ci divivavano abitualmente. D'estate è dominato in questo corso lacerante e sofferto. Fa male pensare che non sei di nessuno. Queste sue parole sono pesanti come dietro, che affondano nel lago del cuore. Ho un ricordo particolare di Maria Dele. Diciamo che, oltre alla professionalità, come è stato descritto dalla signora Preside e da Alessandro prima, mi ha trasmesso, insieme alla mia famiglia, l'amore che aveva, l'attaccamento che aveva per la propria terra, che poi è anche la mia. E attraverso questa grattaccia. 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 Non sei, sei, sei sempre, su sei madri a fai perché mi sballo le gambe e poi la fai senza la riga pura d'amice scondita fuori andando a cantare poi le parole della lingua dialetale è una tavolosa della plur che può fare il cuore, preglie poi può fare bene, secondo l'estro da scrittura senza idee, senza questo e senza cervello che regola le parole del discorso del dialetto e che mettele che parla il nostro paese e non devi essere apposso l'hebreo al tuo amore ma per potere perché i gioi in la sapere un fioliche giugate a cor e salve che ti dompe perderà che era poco da maiare al forne la cantura di cui le donne le fa con salva ma l'aria che era una gran fan ... ... Il fiume che un giorno aveva dentro e aveva una piazza, per tutto ciò che tristemente sta portando via, salutando quelli suoi amici. Il fiume che un giorno aveva dentro e aveva una piazza, per tutto ciò che tristemente sta portando via, salutando quelli suoi amici. Il fiume che un giorno aveva una piazza, per tutto ciò che tristemente sta portando via, salutando quelli suoi amici. Grazie.